Sindaco, il comune di Roseto scende in campo per dare una mano, un aiuto concreto al basket rosetano. Noi siamo stati investiti un mese e mezzo fa di questo argomento, il sindaco ha messo a disposizione il suo tavolo istituzionale perché la società ha chiesto un incontro un mese e mezzo fa dicendo che c'erano delle difficoltà per proseguire da soli in un campionato sempre più impegnativo. Noi abbiamo cercato di sondare il campo, abbiamo avuto anche una serie di interlocuzioni anche con possibili eventuali acquirenti per rimanere il basket a Roseto degli Abruzzi. Questa era la finalità ovviamente di cui si occupa il sindaco. Ci siamo impegnati, abbiamo trovato degli interlocutori, adesso abbiamo preso degli impegni, siamo andati in consiglio comunale. Ci dispiace che non abbiamo avuto l'unanimità del consiglio comunale nel delegare il sindaco, nell'autorizzare il sindaco a sostenere in tutti i modi consentiti dalla legge l'attività del basket ma io parlo anche di altre attività sportive che devono essere sostenute in maniera corretta e che la legge permetta. Quindi dicevo il ringraziamento va alla società, agli sponsor, all'industriale sud, al patron di Sante che in questi anni hanno sostenuto e hanno fatto sì che il basket possa vivere in questa città e che si sono impegnati anche a proseguire per il futuro, ho letto una dichiarazione qualche giorno fa. Quindi questo per noi è un sindaco, per il sindaco è un momento di grande soddisfazione perché Roseto avrà il campionato di serie A2, rimane l'impegno dell'amministrazione comunale come c'è stato anche nel passato a sostenere in tutti i modi leciti possibili che la legge prevede la massima squadra di questa città.